Beh, Miglio, te l'avevo promesso, te l'avevo detto, te l'avevo accennato, te l'avevo esplicato sotto nei commenti E tu mi hai detto, beh, non vedo l'ora, io ti dico, beh, eccomi qui, molto bello, molto molto bello Sono gli occhialetti di Spider-Man, ragazzi, perdonatemi se la classe è davvero troppa Ora, io faccio anche forse fatica a farvelo vedere, forse qui si nota l'immaginina di Spider-Man, non ne ho idea Però sappiate solamente che sono gli occhiali di quando io ero piccolo Li metto anche a quasi 23 anni, certo, mi stanno bene, certo, mandiamo la intro, certo Buongiorno e bentornati nel canale, qui da noi ci siamo qui in questo nuovo video Ragazzi, questa è la maglia di pampling che trovate sempre sotto nella descrizione, la clande, la grande maglia di pampling di Dragon Ball Con il codice ITSDANI, tra l'altro, avrete anche dei calzini molto molto ignoranti in omaggio Quindi io vi posso fare questa offerta, come ovviamente sapete che ho anche il mio nuovo caro amico sponsor Prozis che mi supporta, insomma, in quelle che sono le mie fatiche da gym bro Sostanzialmente, quindi con il codice sconto GIMTONIC, ovviamente collegato al Gintonic, chiaro Avrete anche un 10% di sconto che vi permetterà di risparmiare Signori, non perdiamoci in chiacchiere, Greg Willen e Miles, il giovane miglio E il William Greg, Greg William e Greg Willen hanno fatto un pezzo insieme Ora non mi ricordo se loro due avessero già qualcosa di pregresso assieme, I don't remember Però fanno uscire un pezzo loro due in congiunta insieme Non so cosa aspettarmi, davvero non ne ho la più pallida idea, ho molta paura Non penso ci sarà del testo, ma noi andiamo ad ascoltare Croma, Young Miles e Greg Willen Col cazzo il testo Scusate, sto entrando in un viaggio mistico Mi sto preparando, mi sto evolvendo Ho dei demoni nell'orecchio Mi faccio trasportare dal flusso Porco di mio Volvo Ho i brividi figli di puttana Non ho più l'età, non ho più l'età Divertente Assicuramente Assicuramente Molto, 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 molto divertente Quindi io, prendo fiato Ringrazio Young Miles e Greg Willen per avermi permesso di svegliarmi Perché sono le 10.50 di un 5 agosto 2023 Per avermi permesso di svegliarmi Così, con del buon, con della buona tecno E' tecno questa roba qui, giusto? Che ogni tanto faccio un po' di confusione con alcuni generi musicali Che sembrano tipo la stessa cosa Cioè, no, non sono la stessa cosa, però sempre Vabbè, ci siamo capiti Sa di fatto che apprezzo molto questo genere ormai Perché? Perché Sostanzialmente perché c'è Aurora Mia ragazza Che ascolta una marea di tecno Le piace un sacco E ogni volta che dobbiamo andare a fare qualche viaggio Qualcosa Giustamente, puntualmente In macchina Pianta della tecno Di conseguenza Anche se sono le 6.30 di mattina Di conseguenza Io ormai ci ho fatto l'abitudine Ci ho fatto l'orecchio E ho coperto tante belle perle De tecno Come per esempio questa Per non ovviamente trascurare questa E insomma E tante tante altre Come anche il Can Can Non quello di Germano Mosconi Bello anche quello, chiaro Ma vabbè, insomma Mi ha un po' dato Fatto una cultura Su questo genere qui E ora Mi sembra che questa Vada più o meno Su quel filone lì Ora perdonatemi se magari avrò sbagliato Quella che è effettivamente La L'appartenenza di questa canzone Come genere musicale Ebbene Però ragazzi Indubbiamente Sono due grandi Grandi artisti Grandi DJ Che si sono messi insieme Per Mi tolgo gli occhiali Perché non sono credibile Due grandi artisti Due grandi DJ Due grandi personalità Che sanno come mettere mano ai suoni E si sono uniti Per fare qualcosa Di davvero molto 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 intreppante Ora Io non mi faccio di droga Non mi faccio di pasticche Non mi faccio di nulla Mi faccio solamente ad amore Di conseguenza Magari non posso apprezzare Al 2000% Come possono apprezzarlo Magari chi si spacca di cocaina Ma Non è questo il mio caso Ma Apprezzo davvero molto 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 Perché Non lo so Quando sono preso bene Quando sono in vibes Un po' più Un po' più viaggione Ma Anche solamente Proprio per voglia di ascoltare Qualcosa di diverso Anche perché sto ascoltando Tanta techno Tanta Tanta Com'è che si chiamava Vabbè c'avevo un nome Un sottogenere Della techno Ora mi sfugge Perdonatemi Però vabbè Sto ascoltando tanto Questo genere di musica E quindi mi va benissimo Perché appunto Si aggiunge solamente Un pezzo A quelli che sono I miei nuovi I tipi di ascolti E i tipi di ascolti Ultimamente Quindi Figo Ora non so cos'altro Commentare A riguardo Perché non è tanto Cazzo mio Detto sinceramente Però Cioè Come Non so davvero Cosa dire Non sono un producer Quindi immagino Che sia fatta divinamente Questo pezzo E non ci sono dubbi Sinceramente Quindi ecco Da fan Da ascoltatore Me la godo a pieno E sono molto molto contento Perché Molto molto figa Bravi Miles Ed Greg Willen Ovviamente Manco a dirlo Lo sanno Lo sanno Sono fenomeni E quindi ecco Beh Insomma Ma è miglio So che dovresti far uscire Tipo un glitch di years 2 Credo Ma non è che magari Se io vengo lì Dove stracazzo sei tu Cioè Lo ascoltiamo insieme Fammo il video insieme Può essere una cosa divertente Da fare Con occhialini ovviamente Ad hoc Mi sembra logico Fare una reaction Tutta storta Ad un glitch di years 2 Qualcosa del genere Per me Sarebbe molto molto figo E un bello onore Però insomma Fai tu Fai tu Signori Noi ci vediamo In un prossimo video Non so quando Non so su che cosa Forse su pokemon Torniamo con quello E niente Ragazzi Statemi bene Mi raccomando Non drogatevi Scusatevi questa musica Ma non drogatevi Ciao